La notizia arriva come una doccia fredda per l'Italia a spedire la missiva e l'Unione Europea, una pesante bacchettata da Bruxelles all'Italia che vale 100 milioni di euro e rischia di far saltare il cuore del sistema logistico del paese a partire dai porti. Ad inizio aprile è infatti arrivata al governo italiano una comunicazione della divisione della Commissione che si occupa della concorrenza con la minaccia di un'apertura di infrazione che rischia di mettere in ginocchio i nostri scali portuali. Nelle 13 pagine inviate a Roma si accusano i porti italiani di non avere mai pagato le tasse. La conseguenza, secondo Bruxelles, è aver fatto concorrenza sleale alle altre banchine europee e per lo Stato italiano aver rinunciato ad una parte di entrate. Alla già precaria situazione che è in atto al porto di Gioia Tauro, dove incombono licenziamenti, di cassa integrazioni e una società di gestione, la Conship con MCT, che al momento è sul piede di guerra con i sindacati, con la regione e con il governo italiano, una notizia del genere significherebbe morte sicura o una lenta agonia, nonostante la ZES lanciata in pompa magna alla stampa qualche settimana fa. In quasi cinque anni di scambio di lettere, perché le sollicitazioni dell'UE sono partite nel 2013, l'Italia non è riuscita a convincere la Commissione del grande equivoco, ossia le autorità portuali sono emanazione dello Stato e le tasse le raccolgono, sono enti regolatori, non imprese private. Ma la Commissione è convinta che le autorità di sistema portuale svolgono attività economica perché rilasciano concessioni e autorizzazioni. Bruxelles ritiene che l'Italia abbia garantito aiuti di Stato non dovuti ai porti almeno dal 1958, anno del Trattato di Roma, atto di nascita anche della Comunità Economica Europea. Per fortuna non ci chiederanno di restituire gli arretrati, ma i porti italiani dovranno alzare le tasse portuali per far fronte alle richieste dell'Europa. Per coprire le minori entrate i porti dovranno alzare le tasse del 30-40%. Certo, la mancanza di un governo che alzi la voce contro i burocrati di Bruxelles si sente, ma senza esecutive e con i tempi stretti il rischio è altissimo, i bilanci delle autoriti potrebbero saltare e le tasse, come i futuri canoni concessori, dovranno essere riviste al rialzo. Una vera ecatombe, non solo per Gioia Tauro, ma per tutti gli scali italiani.